Il Servizio Tributi del Comune di Lucera informa i contribuenti che martedì 16 giugno scade il termine per il versamento della conto IMU dovuto per l'anno 2020. A partire dal 1 gennaio scorso l'IMU è disciplinata dalla legge 160 del 2019 che ha disposto l'abrogazione della Tasi. Ai sensi della legge, in sede di applicazione della nuova IMU 2020, la prima rata da corrispondere a giugno è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e Tasi nell'anno 2019, mentre con il prossimo versamento di dicembre il pagamento dovrà essere effettuato a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata e sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dall'ente per l'anno in corso. Al fine di facilitare l'adempimento tributario da parte dei contribuenti, sono disponibili il manifesto informativo, la guida all'acconto IMU 2020, il software di calcolo IMU con stampa F24 presente sul sito istituzionale del Comune di Lucera. A disposizione anche un contatto telefonico 0881541270.